buongiorno a tutti da prescello con marcello e pizzo alla doc e grazie a queste persone siamo qui che si beviamo un bicchiettino dai 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 piccolo ottico non è niente beviamo il vino il vino rosso sangue che paga sangue! mamma siamo davanti attorno alla nostra casa beh venga qui facciamo un brindisi alla doc casa nostra è qui questa mattina siamo tutti lucidi io, macello e pizzo lucidissimo alle tre non capisci più nessuno mamma mia un brinco dai ragazzi alla salute avvicinatevi va avvicinate alla salute alla